Come presentare le soluzioni ai clienti? Dove saranno corretti, in diretta, sulle tecniche di presentazione. Quindi in questo momento stanno cercando di scappare, devo andare a prenderli perché altrimenti se ne vanno, perché hanno paura delle correzioni. Ciao! Mi chiamo Matteo Zaffagnini, sono un partecipante al corso di SalesCars presso Skilllab. Oggi teniamo una lezione sulla presentazione, sul modo di parlare, sul modo di porsi come comunicazione verbale e non verbale. Abbiamo l'insegnante che è la Manuela Carletto, è una persona molto preparata che mette molto a proprio agio le persone. Questo corso è un corso molto interessante, abbiamo fatto solo due o tre lezioni, ne faremo altre tante. Non mi aspettavo che trasmettere le proprie convinzioni, sia attraverso la comunicazione verbale o non verbale, possa essere così difficile veramente capire le esigenze del proprio cliente. Grazie! 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 Grazie!